Il servizio civile, al via i progetti e le nuove collaborazioni, è il titolo della conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Regione Piemonte e sono state illustrate alcune novità rispetto alle passate edizioni, come i periodi di servizio all'estero, il tutoraggio, l'orario di servizio fissato in 25 ore settimanali e la durata che può variare dagli 8 ai 12 mesi, un anno di cambiamenti, di passaggio dal servizio civile nazionale a quello universale. Nei primi mesi del 2019 si completerà l'avvio delle attività già approvate e positivamente valutate, 313 progetti che consentiranno l'impiego di 1168 volontari. Torino ha una rilevanza significativa, poi abbiamo una distribuzione abbastanza omogenea su tutte le province con alcune punte importanti come Cuneo e Alessandria. Assistenza, educazione e patrimonio artistico-culturale sono i settori di intervento che negli ultimi 4 anni hanno registrato un costante incremento nel numero di progetti e di volontari avviati. Nella programmazione futura però occorrerà coinvolgere maggiormente gli enti in ambito ambientale e di protezione civile. Su questi ambiti in crescita di attenzione si stanno impegnando giovani con alte competenze culturali e specifiche. Quindi vuol dire che grazie anche al servizio civile il giovane può maturare una competenza, rafforzare una competenza che ha già maturato a livello di studio, che poi può essere utile anche nella vita lavorativa. Una cifra cospicua a quella messa a disposizione per questo strumento di politica attiva. Si è scelto di aumentare le risorse attraverso il progetto Garanzia Giovani, 1.900.000 euro che la Regione ha canalizzato sul servizio civile.